salve a tutti ragazzi come promesso sto facendo un video guida per fare in modo che la nostra console abbia un hat aperto per prima cosa ci serve di sapere che indirizzo IP ha il nostro router per far sì che possiamo impostare un IP statico al console per avere una connessione più stabile e poi per impostare il server DMZ sulla console diciamo perché se la console non ha un IP statico cioè è fisso il router può cambiare l'IP della console e non funzionerebbe nulla quindi vediamo come fare andiamo sulle impostazioni del wifi tasto destro a ripostazioni di rete e internet visualizza la proprietà della rete o le proprietà scendiamo fino a quando non leggiamo wifi o la LAN LAN e cerchiamo anche due predefinito eccolo qua questo è l'IP del nostro router nel caso in cui fosse complicato per voi non avete windows 10 metterò anche una guida per smartphone bene siamo su smartphone adesso per vedere l'IP del nostro router basta abbassare la tendina tenere premuto il simbolo del wifi selezionare la nostra rete dove lo smartphone è collegato ovvero la rete che sarà anche della della console in questo caso è questa la mia basta cliccarci una volta ovviamente io ho una rom non originale quindi basta cliccarci nel caso in cui voi avete una rom originale probabilmente dovete tenere premuto sulla connessione e poi selezionare o dettagli o info rete e comparirà questa questa schermata che ci dirà tutte le info e tutti i dettagli della rete a noi quello che serve è il gateway in questo caso il gateway è l'indirizzo p del nostro router bene allora arrivati a questo punto andiamo su impostazioni rete come vedete configura connessione internet io in questo caso ho la lan se voi avete wifi mettete wifi su personalizzata manuale e impostiamo l'indirizzo ep statico indirizzo ep allora io imposto questo nel caso in cui il gateway fosse 0.1 se fosse 1.1 imposterei così adesso 111 ma potrebbe essere anche 200 io però il gateway questo qua 0.1 quindi l'indirizzo ep statico io sarà questo poi maschera sotto rete è sempre questa il gateway predefinito ovviamente il mio è questo il gateway sarebbe come avevamo detto l'indirizzo ep del router il dns primario metteremo sempre l'indirizzo ep del router e il dns secondario lo lasciamo così mtv mettiamo automatico server proxy non usare verifica connessione internet adesso abbiamo impostato l'ip statico bene arrivati a questo punto abbiamo il nostro browser inseriamo l'indirizzo ep del nostro router mettiamo la password nel caso in cui non l'abbiate mai fatto la password sarà utente utente e password sempre utente di solito altrimenti l'utente ente la password e password per i standard comunque dovrebbe esserci scritto sotto al router ok arrivati a questo punto dobbiamo innanzitutto cercare le opzioni avanzate io ho come vedete un tipi link cerchiamo server dm zeta o dm zeta e basta vedete io ho attivato l'indirizzo ep host dm zeta l'ip della console se per caso avete anche altri dispositivi tipo un computer vi consiglio vivamente di non fargli fare da host a meno che non abbiate un buon firewall sul vostro computer che gestisce tutti i dati in entrata la console non da problemi praticamente cosa fa il server dm zeta leva tutto il blocco del firewall premete il router adesso ha questo indirizzo ep ha tolto il blocco premete tutte le porte sono aperte nel caso in cui il vostro router non abbia la possibilità di abitare il dm zeta dobbiamo aprire le porte noi manualmente quindi andiamo a cercare le porte sul sito ufficiale del software rom del gioco che io in questo caso siccome è stato fatto questo video per Apex vi trincherò tutte le porte in descrizione adesso andiamo a cercare port triggering aggiungiamo una porta port triggering inseriamo una porta 1024 protocollo tcp o udp in base alla porta che dobbiamo aprire porta esterna sempre la stessa protocollo esterno sempre udp in questo caso udp se facciamo dcp facciamo dcp dcp abilità applicazione ps4 salvo ok adesso abbiamo aperto la porta 1024 del nostro router il mio router in questo caso non mi ha chiesto su che ip vada aperta questa porta vuol dire che ogni ip che si connette al router ha questa porta aperta però c'è la possibilità che qualche router potrebbe chiedere anche l'ip in quel caso se vi chiedesse l'ip voi mettete l'ip della console cioè l'ip statico che abbiamo impostato prima detto ciò abbiamo finito questo video in teoria dovreste avere il nato aperto grazie a tutti aκι al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti